gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi lunedì 17 gennaio 2022 vediamo le prime pagine dei giornali partiamo con il corriere della sera green pass nei negozi ecco le nuove regole di govic espulso tensione austria serbia e poi vediamo a centropagina colle divisi sul voto ai positivi e verdini consiglia berlusconi giochi così la sua partita ma il kingmaker è salvini beh naturalmente verdini è il papà della fidanzata di salvini e vede appunto in salvini quello che deve decidere nel centrodestra ma ricordiamo a verdini che salvini non è né il primo partito italiano né più il primo partito nel centrodestra quindi il kingmaker dovrebbe essere la meloni però qui c'è un vincolo di quasi parentela la corsa al quirinale fico scrutini avanti a oltranza escluso chi ha il covid il centrodestra però insiste intanto i partiti stanno chiedendo ai loro politici di non andare a cena fuori di evitare contatti con gli altri perché se no non potranno votare per il quirinale e poi andiamo a vedere la repubblica che titola fico frena berlusconi quello che abbiamo appena visto covid rasi la quarta dose non serve a tutti solo ai fragili il presidente della camera vuole impedire la riconoscibilità delle schede così scompagina i piani del cavaliere denis verdini dai domiciliari manda i suoi consigli al leader forzista ma salvini già pensa però a pera o moratti beh la moratti presidente della repubblica mi astengo dai commenti e vediamo che ieri mastella ha consegnato a berlusconi di segnare le schede cioè che fratelli d'italia scriva silvio berlusconi che forza italia scriva berlusconi silvio che la lega scriva s.berlusconi gli altri scrivano solo berlusconi in modo da poter capire chi ha tradito e così però intanto vedete il presidente della camera vuole impedire la riconoscibilità delle schede e poi andiamo a vedere un altro giornale la stampa di torino che titola prima pagina berlusconi è un vicolo cieco se non si ritira addio al governo e poi queste sono le parole del segretario del pd berlusconi è un vicolo cieco ebbè vicolo cieco ma avete paura che salga al quirinale se non neanche ne parlereste e poi andiamo a vedere libero quotidiano che a centro pagina ci parla sempre del quirinale mancano ancora pochi giorni sei giorni sette e gentiloni la carta segreta di renzi gentiloni è quello che in europa ballava in un video applaudendo e cantando bella ciao ecco insomma il presidente bella ciao ci mancava e poi vediamo ma berlusconi insiste io ci credo i voti escono e poi vediamo i positivi liberi dopo cinque giorni vaia dello spallanzani fissa le regole per sbloccare il paese i vaccinati e asintomatici escano di casa senza tampone gli ospedali reggono e poi abbiamo qua un documento il solo modo per provare a far vincere il cavaliere ma non sappiamo di che cosa si tratti e poi andiamo a vedere un altro giornale il fatto quotidiano che titola in prima pagina la destra vuole fare votare i positivi conti conte blindadraghi a palazzo chigi e poi vediamo l'olito portò una carta falsa come garanzia per il 37 per cento dell'alitalia ma a centro pagina si parla delle elezioni del quirinale due pregiudicati questi due signori qua si scrivono per eleggere il pregiudicato mail di verdini dai domiciliari a dell'utri e confallonieri quindi qua i due pregiudicati si scrivono per eleggere il pregiudicato beh come titolo è anche abbastanza significativo spiagge le concessioni che affamano lo stato lo è messo in italia il picco e vicino regole più light berlusconi al quirinale che loro chiamano b punto perché l'innomineto berlusconi al quirinale allora è meglio veronica lario bella questa insomma è un giornale satirico quello di di travaglio bene e poi vediamo la verità che ci scrive in prima pagina noi vittime del vaccino dimenticate dallo stato effetti avversi il grande tabù parlano le persone che sono state male dopo l'iniezione da mesi soffriamo e nessuno ci considera ci siamo fidati delle istituzioni e ci hanno abbandonato rischiamo pure di rimanere senza green pass ma rimanere senza green pass credo che sia il meno ecco e poi andiamo giù vediamo maurizio belpietro che scrive la scuola specchio dell'italia bloccata lockdown di fatto e poi vediamo demonizzazione ma la cautela viene usata solo per zittire montagnere e poi vediamo se il cav il cav il cav il cav il cav il cavaliere non ce la fa casellati o frattini il vice segretario della lega lorenzo fontana alla verità compito di tutti verificare se berlusconi ai voti altrimenti lui rinuncerà e si passerà al piano b dal colle dipende il futuro del centro destra e questo è assolutamente vero e poi vediamo l'inchiesta il caro bollette ferma le imprese a rischio 500 mila posti di lavoro mezzo milione di posti di lavoro e certo con le bollette che triplicano ho visto una bolletta che passa da 19 mila euro di un'azienda a 87 mila euro e caspita se chiudono le aziende mario giordano scrive speranza che cosa aspetti a dimetterti me lo sono chiesto anch'io dopo le ultime cose che sono venute fuori il dizionario di silvana contro la tristezza imparate a dire grazie prego andiamo a vedere il tempo che ci racconta figliuolo cade sulla terza dose dietro tutti gli altri grandi paesi d'europa partito male e tardi preoccupa il terzo tempo della campagna per offrire a tutti il richiamo italia al diciassettesimo posto in classifica stessa posizione raggiunta da arcuri che così perse il posto il risultato è che gli ospedali sono sotto stress per vaccinati con loro protezione scaduta cioè quelli che hanno fatto il vaccino molto tempo fa e poi non l'hanno più rifatto e poi il tempo di oscio col diretti ai cinghiali killer pensi il governo vediamo che dice capito sì finché gli servivamo per cacciar la raggi gli andavamo bene mo siamo diventati il nemico numero uno andamo bene come diceva la soralella vabbè non mi fa ridere questa vignetta comunque dopo 14 anni al via i lavori per sistemare la frana dei parioli il cav non molla e assicura i suoi ce la farò se berlusconi non riuscisse ad andare al quirinale sarebbe pronto a vivere do a vivere a virare su gianni letta e poi la supplettive di roma centro mai così pochi al voto la delia pd in testa ma nessuno ha parlato delle supplettive di roma è una votazione quasi segreta e vediamo poi il messaggero che ci racconta in prima pagina arriva la quarantena breve il tavolo governo regioni isolamento ridotto per gli asintomatici con il booster cauda del gemelli semplificare i rientri con cautela l'oms omicron in italia picco vicino e poi andiamo a vedere stallo centrodestra oltre berlusconi non c'è un'alternativa lettera di verdini così si elegge il cavaliere toti si smarca con lui sarà una disfatta poi vediamo il sole 24 ore che ci racconta famiglie assegno per i figli e corsa all'inps ecco i dubbi risolti casa giovani e mutui aiuti più lunghi adesso andiamo a vedere se è uscita la prima pagina del giornale che è sempre l'ultimo ad arrivare andiamo a vedere abbiate pazienza un attimo vediamo se è uscita la è purtroppo è ancora la prima pagina di ieri quarta ondata tamponi e pass forse cambia tutto delirio novax in piazza pure il nobel e il pilota però purtroppo questa è la pagina di ieri il giornale è uno degli ultimi ad uscire e anche oggi non siamo riusciti a vedere la prima pagina arrivederci a tutti e grazie